Oggi attivazione Monte Zatta, Italia Lima Golf 342. C'è ancora un'oretta di strada tra asfalto e a piedi, 73. Ci sentiamo dopo. C'è un caldo pazzesco, siamo intorno ai 1300 metri di quota, l'orologio l'ho attaccato allo zaino, per non avere la temperatura del polso, mi segna 29 e mezzo, è veramente tanto caldo, manca quasi due chilometri alla vetta dell'Ozzatta, è dura, con sto caldo E' peggio che in inverno. Anche tu in sota? Sei anche tu in sota? Ok, QRP penso di sì. Allora questi per i colleghi che rompono il belino durante le attivazioni di quota. Niente, mentre sali ti incazzi, c'è caldo, non c'è l'acqua, è tutto quello che vuoi. Poi, a un certo punto, arrivi qua. Arrivi qua e vedi sta roba qui. Zona 1, Mar Ligure, è uno spettacolo. Peccato un po' di foschia, non mi ricordo come si chiama in genovese. Poi ce lo scrivo nei sottotitoli, ce lo metto. Quando c'è quest'aria qua, umida, pesante, non mi ricordo, lo metto nei sottotitoli. Comunque, la vetra del moto è giatta, è quella lì. Quindi, qualche centinaio di metri. E facciamo stazione. Vabbè che spettacolo. E praticamente a mezz'ora di macchina. Sì, mezz'ora di macchina dalla Valtaro. Sì, qui sotto, sì, qui sotto, sì, qui sotto. Sì, qui sotto, sì, qui sotto. Italy, Zulu, four, Victor, Quebec Sierra, portable, QRP. Sì, qui sotto. Roger, Eco, Alfa, three, Eco, Victor, Lima. Five, nine, QSL thank you to you my friend good day to you and your family bye bye 73 roger ontario milano uno ancona xilofono 59 qsl roger hotel bravo nine charlie golf alfa 59 qsl roger whisky bravo november over o ontario napoli 7 zulu milano grazie per l'italiano 59 abbondantissimo è parte 59 plus plus for you my friend back to you allora io ho copiato un'italia whisky 3 avanti roger alfa golf ontario al finale 55 59 per il log dai che facciamo prima ti passo la referenza sota italia lima golf 342 con davanti il mar ligure qsl o qui ricevo un'italia uniform 3 golf e chilo juliet un novello di patente hi non prendertela male ma visto che c'è una certa età almeno che mi sfogo con qualcuno 59 reali e 59 più 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 per te qsl italia uniform avanti ciao 73 non grazie a te che mai reso mai reso proficua la salita in cima sto monte con sto caldo che passiamo i 30 gradi non ce la faccio più ti ringrazio ancora ciao buona giornata italia norvegia 3 november juliet bravo 59 reali qsl buongiorno no buonasera signor claudio italia zulu 5 juliet lima fox trot 59 qsl grazie e certo ti metti lì ti metti lì vicino io sono a 7091 tu ti metti a 7090 italia zelanda 0 italia japan canada italia zelanda 0 italia japan canada 59 reali e 59 più più qsl ecco america 3 hotel yankee juliet e 59 qsl my friend roger italia 0 kilowatt hotel yokohama 59 qsl roger italia zulu 0 america radio lima messo a log qsl allora io ho copiato italia zulu 5 charlie interrogativo interrogativo o ciao italia zulu 5 charlie papa chilo 59 qsl ciao 73 non ti avevo riconosciuto scusa ciao italia venezia 3 golf victor yankee 5 9 qsl ok vi ringrazio signori grazie ancora per questa bellissima occasione di divertimento tanti saluti da italia zulu 4 victor che bexerra portatene in qrp in attivazione sota da italia lima golfe 342 monte zatta 1404 metri di quota al confine tra la zona 4 e la zona 1 con di fronte il mar ligure 73 e buon fine giornata buona serata ciao allora una cosa fondamentale qui abbiamo monte zatta 1404 questo è proprio il vertice il summit allora dal monte zatta panorama stupendo veramente stupendo una raccomandazione per quelli come me che sono fumatori e vanno in montagna le sigarette mi raccomando raccoglietele io me le metto sempre da parte e poi una volta spente per benino me le butto nello zaino e le porto a casa o al primo cestino utile 73 allora ogni tanto sul canale capita qualcuno che non è un radiamatore e giustamente si fa delle domande chiede ma lo scopo di questa attività beh è difficile definire lo scopo preciso di questa attività è un hobby mette a connubio quello che quello che è la passione per la montagna per il trekking soprattutto se si ha la fortuna di vivere in zone come queste che nel raggio di una ventina di chilometri si ha la possibilità di attivare moltissime vette in questo caso il agli al ginocchio il monte zatta 1400 italia lima golf 342 a questo numero è il numero di riferimento sota c'è un numero identificativo che definisce la vetta e nel corso dell'attivazione radio ovvero avendo montato la stazione radio in vetta e facendo chiamata è molto più semplice dare questo numero italia lima golf 342 che dire monte zatta comunque il monte zatta si trova lungo il crinale fra la valtaro se possiamo dire la valtaro e la liguria non mi ricordo se quello che passa chiavari e lavagna si dovrebbe essere lavagna quindi è proprio di passaggio fra la zona 4 e la zona 1 in questo momento sono in zona 4 qualche decina di metri più in alto passa in zona 1 e lo scopo è quello cioè mettere in connubio cioè unire due passioni per me è quello della montagna per svariati anni ho fatto il geologo e queste zone le le conosco molto bene dal punto di vista geologico è sempre un piacere attraversarle passarci e riconoscere le litologie e soprattutto anche la lobby della radio e quindi mettere mettere assieme le due cose e questa è la spiegazione per quelli che ogni tanto arrivano e mi fanno la domanda ha ben ragione ci dicono ma sei fuori di testa vai in cima un monte con una radio cosa cosa fai qui c'è una bellissima sorgente adesso svuoto la bottiglietta d'acqua commerciale e la riempio con questa qua del monte zatta che ha una durezza in gradi francesi se non ricordo male di 23 è poco più dell'acqua distillata è fantastica ma che spettacolo campai